Thomas Anderson? Sì, sono io. Una firma, prego. Grazie. Arrivederle, buongiorno. Ciao, Neo. Sai con chi parli? Morpheus. Già, ti stavo cercando, Neo. Non so se sei pronto a vedere quello che voglio mostrarti, ma purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Stanno venendo da te e non so che intenzioni abbiano. Chi sta venendo da me? Alzati e lo scoprirai. Cosa? Adesso? Sì, adesso. Alzati lentamente. Guarda la scensore. Cazzo. Eh già. Che vogliono da me? Non lo so, ma se non vuoi scoprirlo, ti suggerisco di andartene da lì. E come? Posso guidarti, ma devi fare esattamente quello che ti dirò. Va bene. Il box davanti a te è vuoto. Sì, ma... Scat, ora. Resta fermo lì un momento. Al mio segnale, lascia la sala. Entra nell'ufficio in fondo al corridoio. Muoviti abbassandoti più che puoi. Va, ora. Bene. Adesso. Fuori dalla finestra c'è un'impalcatura. E tu come lo sai? Non c'è tempo, Neo. La finestra alla tua sinistra. Avvicinati. Aprile. Vuoi usare il ponteggio per arrivare sul tetto? No, no. Non se ne parla. Tu sei pazzo. Ci sono due modi per uscire da questo edificio. Uno è grazie al ponteggio. L'altro è in stato di arresto. Corri comunque a un rischio. Sta a te decidere. Ma guarda che situazione. Perché proprio a me? Che cosa ho fatto? Non sono nessuno. Non ho fatto niente. Niente. Qui ci resto secco. Accidenti. Io non ce la faccio. Accidenti. 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 Accidenti.